Spaccio a gestione familiare a Sansepolcro, un'attività ovviamente illecita portata avanti da padre, madre e figlio, tutti cittadini albanesi, madanni, residenti in Valtiberina, finiti adesso in manette. I genitori, entrambi cinquantenni ed il figlio, un venticinquenne, producevano e vendevano anche a domicilio cocaina. Adesso l'importante giro di spaccio, totalmente gestito dai tre, è stato smantellato dagli agenti dell'ufficio anticrimine del commissariato di Sansepolcro. Le indagini erano partite nel 2018, con pedinamenti ed appostamenti gli agenti sono riusciti così a ricostruire nel dettaglio tutta la catena di compravendita dello stupefacente, documentando centinaia di cessioni di cocaina. I tre, a qualsiasi ora di qualsiasi giorno e soprattutto in qualsiasi zona della Valtiberina, si rendevano disponibili ad incontrare i clienti o all'interno delle mura domestiche oppure raggiungendo anche Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, San Giustino e Città di Castello. Le consegne infatti avvenivano anche a domicilio, ma in questo caso i tre si facevano pagare quasi il 20% in più. Per ordinare lo stupefacente bastava un semplice messaggio whatsapp, ovviamente in codice come mi prepari tre birre oppure passo a prendere un caffè. I tre, ritenuti responsabili in concorso del reato continuato di produzione spaccio di stupefacenti si trovano attualmente agli arresti domiciliari.